L'obbedienza non è mai stata una virtù. L'obbedienza significa dover calare la testa se si è obbligati o calarla per motivi di convenienza. I bambini devono obbedire. Se un bambino di due anni esce con la mamma e gli dice fermati, deve fermarsi. Quella è obbedienza assoluta. Crescendo cresce il giudizio, il mio pensare. Obedire a quello che mi dice qualcun altro significa allora capire quello che vuole l'altro. Decidere se ti sembra giusto, dopodiché obbedire o no. Oppure fare presente che è un'ingiustizia e anziché disobbedire immediatamente dare l'opportunità a chi è errato di mettersi a posto. Si deve sempre mettere in dubbio se uno è onesto, se uno è giusto, se uno è buono. Perché se uno dice io sono buono sempre, non sei buono. Perché nulla è immobile, nulla è immutabile quando si parla di sentimenti e di azioni nei riguardi di tanta gente.